Perfetto. Allora, noi partiamo sempre molto puntuali, Daniele, perché abbiamo molto rispetto per chi si collega all'orario giusto e quindi a noi piace partire precisissimi. Ok? Detto questo, quello che vorremmo fare insieme a Daniele Lindy di AvaTrade e AvaTrade ovviamente, perché ricordatevi che tutti questi webinar sono gratuiti perché esiste AvaTrade, perché sponsorizza questo tipo di attività e quindi voi godete dei webinar di alta qualità completamente gratuiti. Il Daniele Lindy, che ha già tenuto alcuni webinar con noi anche poche settimane fa, è un super esperto di programmazione e di creare sostanzialmente automatismi con il trading, intanto è che addirittura ha creato proprio un software per aiutare i trader a programmare, quindi è una cosa un pochino più avanzata. E insieme abbiamo avuto quest'idea, ve lo dico sinceramente, l'ha avuta lui, quindi io gliel'ho appoggiata molto molto volentieri, di fare questo percorso di circa dieci webinar in cui un super esperto si metterà a disposizione di noi comuni mortali per cercare di introdurci nel magico mondo della programmazione e del trading. Daniele, è un po' come se Rocco Siffredi ci invitassi a casa sua una sera per insegnarci l'arte della sua arte, insomma, tu ci stai insegnando un po' la tua arte, giusto? Ci proveremo! Adesso ho alzato le aspettative, saranno molto lunghe le aspettative. Va bene, allora, io so che tu hai preparato delle slide, quindi io ti lascio assolutamente parlare, le domande direi che voi scrivetele pure, ma magari le facciamo alla fine, cosa ne dici? Così almeno diamo una continuità nella tua esposizione o preferisci a un certo punto fermarti magari e chiedere domande? Vedi tu come preferisci? Sì, facciamo così Mirko, se per caso c'è qualche domanda che leggi, che voi rispondiamo subito, non c'è problema, lo facciamo perché questa prima lezione sarà introduttiva, poi vediamo un attimo fino a che punto ci spostiamo col tempo. Ok, tu hai preparato dei webinar per una durata circa di? Dunque, pensavo di 20-25 minuti per esporre i concetti un pochettino alla volta, per non sovraesporre troppe cose. Perfetto, quindi come avevamo deciso, fanno un po' di più di webinar, ma un pochino più light in maniera tale che uno tra uno e l'altro abbia anche il tempo un po' di studiare o comunque di vedere le cose. Tutto questo poi lo troverete sul nostro canale YouTube, creeremo una nuova sezione appunto che sarà programmazione, e sarà dedicata a te e poi se ci lasci eventualmente i tuoi contatti e le mail le incollerò sotto al nostro webinar su YouTube in maniera tale che possiate poi contattare Daniele se avete qualche domanda o qualche cosa di altro tipo. Daniele, ti lascio la parola, buona giornata, ci sentiamo dopo, io sono qua a te aspetto. Grazie mille Mirko, grazie. Allora, cosa cercheremo di parlare in questo webinar e quali sono, diciamo, i nostri scopi? Diciamo, cercheremo di spiegare che cos'è il concetto di training automatico, lo faremo cercando di esporre dei concetti più semplici e possibili, parleremo poi durante le nostre varie incontri successivi anche delle differenze quando ci sarà il momento magari tra l'MQL4 e l'MQL5 ed oggi parleremo anche dei vari tipi di programmi che si possono fare con l'MQL. Dunque, quindi, questa serie di incontri che stiamo facendo sono rivolti a chiunque non abbia mai programmato prima d'ora, quindi cercheremo di esporre i pochi concetti base perché per programmare non è che serve conoscere tantissimi concetti diversi, ce ne sono pochi, basta prenderli bene e cercheremo di fare le cose nella maniera sempre più semplice possibile, ok? Quindi al termine dovreste essere in grado di poter sviluppare autonomamente dei programmi di training automatico, ok? Ma che cos'è il training automatico? Noi abbiamo una visione abbastanza ampia del training automatico che non comprende unicam solo e soltanto i trading system, ma possono essere ad esempio strumenti di supporto all'attività di trading, come ad esempio un programma, uno script che ci calcoli magari un prezzo medio di carico, nel caso abbiamo aperto più posizioni, o dei trading system veri e propri che magari effettuano operazioni di acquisto e di vendita in base alle regole preimpostate. Parleremo anche, vedremo anche come fare degli indicatori tecnici, oppure magari degli strumenti che possono essere magari d'aiuto al trading, in tutta la nostra watch list, vedere quali sono, per esempio, il cui prezzo è inferiore alla media mobile a 56 settimane. Vedremo poi anche nel corso della nostra adattazione come è possibile magari importare ed esportare i dati verso sistemi esterni. Ad esempio magari prendere la nostra attività di trading ed esportarla, ad esempio in Excel per una successiva analisi, ok? Quindi, sapete che la MetaTrader è in due versioni, la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5. Entrambe queste versioni hanno ancora un loro differente linguaggio che si chiama MQL, nella versione 4 e nella versione 5 rispettivamente. Il linguaggio MQL4 e MQL5 sono abbastanza simili, ok? Quindi diciamo abbastanza poi sarà facile passare da uno all'altro, ok? Quindi in linea generale comunque faremo riferimento all'MQL4, ok? Dopo vedremo nel corso della trattazione quando sarà il momento di vedere anche le piccole differenze che ci sono con la MQL5, ok? Dunque, innanzitutto però quando cerchiamo di fare del trading automatico con la MetaTrader abbiamo di fronte diverse strade, ok? Dunque, la cosa più semplice è lo script o programma anche in italiano, ok? Che cos'è un script? È semplicemente un programma che viene eseguito solo e soltanto una sola volta, ok? Quindi come un normale programma. Una volta che svolge il lavoro che deve compiere questo script viene automaticamente rimosso dalla piattaforma, ok? Quindi cosa potrebbe servire uno script? Ad esempio per chiudere tutti gli ordini aperti, ok? O per eliminare tutti i pendenti. Lo script viene eseguito, elimina tutti gli ordini e basta, ok? Poi abbiamo gli expert advisor, ok? Gli expert advisor sono diversi perché vengono eseguiti in continuazione con un loop infinito, ok? Quindi continuano a rimanere attivi fino a quando l'utente non lo rimuove espressamente, volontariamente con una sua azione sul grafico oppure la piattaforma non viene spenta ovviamente o situazioni del genere, ok? Quindi diciamo gli expert advisor servono per sostanzialmente quando dobbiamo vedere in continuazione magari nuovi prezzi e prendere delle decisioni di conseguenza. Abbiamo poi la possibilità di creare anche degli indicatori tecnici, ok? Inutile che vi dica cosa sono gli indicatori perché immagino che lo sappiate. In ogni caso la metatrader ci consente anche di creare dei nostri indicatori e di mostrarli ovviamente sul grafico in diverse forme. Ovviamente gli indicatori non eseguono delle operazioni a mercato, ok? Servono solamente per visualizzare delle nostre informazioni che vogliamo noi. Infine c'è una quarta possibilità che sono le librerie e i file, ok? Cosa servono queste librerie o questi file? Che si chiamano anche file di inclusione o file include. Servono solamente come supporto per tutti gli altri modelli, ok? Quindi da soli sono inutili. Sono sostanzialmente delle porzioni di codice che vengono poi incluse da altre parti. Uno script, un expert advisor oppure in un indicatore. Ok, bene. Ci sono domande nel frattempo Mirko? No, no, vai pure il massimo, ti fermo io se c'è qualcosa. Ok, allora. Cominciamo a vedere allora come si programma, ok? Allora, il nostro concetto di base, che è quello che vorrei che voi capiste, è che tutti i vari linguaggi hanno comunque una sorta di radice comune, ok? Quindi se imparate bene un linguaggio, poi diventa abbastanza facile passare da un linguaggio ad un altro, ok? Quali sono, diciamo, questi linguaggi di programmazione, queste famiglie, ok? Diciamo che il mondo dell'informatica, il mondo dello sviluppo software, nel corso degli anni ha stabilito, diciamo, diversi approcci, ok? Per cui ci sono famiglie di linguaggi che si chiamano funzionali, linguaggi specifici che svolgono un lavoro specifico, tipo ad esempio estrarre i dati da un database, oppure elaborare dati matematici, oppure visualizzare una pagina web. Ci sono poi linguaggi dinamici, ok? Che vedremo magari più avanti cosa si intende per linguaggi dinamici. E infine c'è la famiglia più grande di linguaggi, che sono linguaggi procedurali. In questa famiglia dei linguaggi procedurali troviamo il C, il C Sharp, il C++, Java, le MQL e tanti tantissimi altri, ok? Quindi la stragrande maggioranza dei linguaggi di programmazione è basata sul concetto, sul paradigma, si dice procedurale, ok? Ma cosa comporta questo paradigma procedurale, ok? Si basa semplicemente su tre semplicissimi concetti chiave. Quindi se noi impariamo questi tre concetti, saremo già in grado di creare sostanzialmente qualsiasi tipo di programma, ok? Questi concetti sono i tipi e le variabili, i cicli e le condizioni, ed infine i funzioni ed i parametri delle funzioni. Ok? Andiamo avanti e spieghiamone magari un po' alla volta. La cosa più importante, ok? Il tipo di dato e le variabili. Che cos'è un tipo di dato? Un tipo di dato ci indica di quale famiglia un dato fa parte, ok? E ci indica anche che tipo di operazioni si possono svolgere su questi dati stessi, ok? Perché tutti i programmi per il computer ruotano sempre attorno al dato e alla variabile, ok? Quindi... Scusa Daniele, fermati un secondo. È come se noi andassimo al ristorante e sul menu abbiamo le cose che possiamo mangiare, cioè che possiamo mettere in pancia, giusto? Benissimo, è esattamente questo. Se vado in un ristorante di pesce, non posso trovare una pizza. Perfetto. Se io al mio computer so che può avere dei dati reali, per dire numeri reali, numeri reali sapete quali sono, non può avere magari numeri irrazionali, per esempio. Esatto. Quindi, quando voi si programmate, dovete dire al vostro computer, come in un ristorante, cosa può mangiare, cosa può aspettarsi successivamente. Giusto? Esattamente, Mirko, esatto, ok? Strettamente legato al concetto di tipo di dato, c'è la variabile, ok? Che cos'è una variabile? Semplicemente un identificatore, un nome che noi diamo per rappresentare dei dati. Ovviamente, cosa succede? Quando una variabile, anche essa deve avere un tipo. Ma per chiarire meglio il concetto di tipo, immaginiamo che i quattro tipi di dato base che ci possono essere in un programma, ok? Uno sono i numeri interi, quindi i numeri che non hanno la virgola. Poi abbiamo i numeri decimali, numeri con la virgola. Abbiamo poi dei valori testuali e poi dei valori che si chiamano valori booleani che possono essere solamente vero o falso, ok? Quindi, come si esprimono questi dati? Quando c'è, dobbiamo avere un numero intero, useremo la parola chiave int. Un esempio di variabile, ad esempio int, numero ordine, ticket dell'ordine che può essere uguale a dieci. Se vogliamo, ad esempio, esprimere un prezzo, ovviamente dovremmo usare un numero reale, perché i prezzi e le quotazioni hanno la virgola, quindi un numero intero non è adatto. In questo caso si usa la parola chiave double, ok? Poi ci sono le variabili, i tipi di dato che si chiamano booleani e che infatti si identificano con la parola chiave boole. Ed infine i valori di testo, i valori stringa, che usano invece la parola chiave string, ok? Ad esempio string mercato, forex, oppure string prodotto, può essere eurusd, usdien. Ok, questi sono i quattro tipi di dato fondamentali. Ovviamente ce ne sono anche altri di tipi di dato, no? Ci possono essere i tipi di dato che rappresentano numeri che non hanno un segno, oppure per rappresentare numeri molto più grandi, o addirittura possiamo creare noi dei tipi di dato, ok? Però basandoci solamente su questi quattro tipi di dato base, possiamo già fare dei programmi già abbastanza complessi e diciamo che abbiamo già con questi quattro tipi base e possiamo creare già dei trading system, creare vari sistemi di trading automatico, ok? Imparando questi quattro qua, ok? Un'altra cosa importante quando si usano i programmi procedurali... Puoi tornare un secondo indietro? Io ho sempre avuto difficoltà nel capire le variabili stringa, cioè mentre il valore intero è un numero, double vuol dire che dopo la versione sono due valori, boolean vuol dire vero o falso, del tipo se l'euro-dollaro sale e il franco-yen scende, metti vero, se è contrario metti falso, è facile. Ma la variabile stringa ho sempre avuto le difficoltà, me lo puoi rispiegare tu per favore un attimo meglio? Ok, che cos'è una variabile stringa? È una variabile che rappresenta un testo, ok? Ad esempio, immaginiamo che dobbiamo fare un sistema di trading automatico, ok? Però diciamo, attenzione, io non voglio magari per sbaglio caricare questo sistema di trading automatico su uno strumento che non mi interessa, che magari sbaglio, ok? Quindi posso dire, ok, quali sono, qual è lo strumento su cui deve lavorare questo trading system? Farò una variabile tipo string, ok? Strumento uguale, aperte virgolette, eur-ust, ci sei? Perché eur-ust rappresenta un testo. Ah, ok, quindi è una parte... Ok, ok, già è più... Lo vedremo poi, lo vedremo poi quando andiamo avanti. Assolutamente, certo, certo, certo. Diciamo, il valore stringa, diciamo, rappresenta un testo. Un testo, ad esempio, può essere il nome del broker, ok? Ci sei? Può essere, come abbiamo detto, uno strumento finanziario. Certo. Ok, qualsiasi cosa che rappresenti un testo, una serie di caratteri. Questo è in tutti i linguaggi di programmazione. Questo è in tutti i linguaggi di programmazione. Dopo, più avanti, nel prossimo incontro, vedremo anche che praticamente è facilissimo magari passare dal C all'MQL o ad altro linguaggio ancora. Praticamente vedremo che facendo un coppia e incolla tra un ambiente e l'altro, praticamente non cambia quasi il codice, rimane pressoché identico, ok? Quindi diciamo, questa cosa qua vale un po' per tutti i linguaggi che abbiamo detto procedurali, ok? Ma anche per gli altri, ok? Un'altra cosa che quando affronteremo, diciamo, qualsiasi programma vogliamo fare di sistema di trading automatico, alla fine arriverà un momento in cui dovremmo affrontare il problema di fare qualcosa sulla base di una condizione, ok? In questo caso si parla di istruzioni condizionali, ok? Le istruzioni condizionali che cosa indicano? Indicano che il programma deve prendere magari una strada, una direzione diversa, magari deve in base ad una condizione predefinita, ok? In questo caso si userà, vediamo dopo, un costrutto molto semplice che si chiama IF-ELSE, ok? Se succede una cosa fai questo, altrimenti fai un'altra, ok? Oppure ci troveremo in situazioni in cui dovremmo fare una cosa solo se si verifica una condizione. Ad esempio, se il profitto di un ordine è maggiore di 50 della mia valuta, allora chiudilo, ok? Se no, non fare niente, ok? Queste qua sono le istruzioni di ciclo, le istruzioni, eh scusatemi, le istruzioni condizionali. Sono questo semplice costrutto, il costrutto IF-ELSE oppure il costrutto IF. Ci troveremo poi in altre situazioni in cui sarà necessario magari ripetere una stessa operazione un numero definito di volte, ok? Oppure, cosa che ci capiterà, poi vedremo ancora più spesso, sarà di eseguire magari una stessa operazione su un insieme di valori, ok? Che sono gli array o le matrici che vedremo successivamente. In entrambi i casi, la parola chiave è l'istruzione utilizzata, si chiama FOR, ok? Ultimo concetto che dobbiamo apprendere bene è il concetto qua, cercherò di andare un po' più lentamente per farvi capire, il concetto di funzione, ok? Di proceduro e dei parametri della funzione, ok? Cosa sono le funzioni? Le funzioni sono delle parti di codice che effettuano un calcolo specifico, ok? Sulla base dei parametri di ingresso, ok? Andiamo ad esempio a vedere questa funzione qui. Ops, scusate. Ok. Vedete che qua abbiamo messo un esempio di funzione, ok? Immaginiamo che il nostro programma debba calcolarci magari il prezzo completo sulla base del prezzo senza l'IVA e poi anche dell'importo dell'IVA, ok? Quali saranno i parametri di questa funzione? Ovviamente uno sarà il prezzo del prodotto senza l'IVA e un altro sarà l'importo dell'IVA, ok? Lo scopo della funzione quindi sarà quello di calcolare il prezzo IVA compresa, ok? Quindi i parametri saranno, vedete che abbiamo messo prezzo base perché è un valore con una virgola, ok? E poi l'altro parametro della funzione è IVA che qua abbiamo messo come valore intero. Ovviamente anche l'IVA può avere una virgola, ok? Può essere quindi l'IVA al 3,5%. Qua per semplificare questa funzione facciamo che l'IVA può essere solamente un valore intero, quindi 1%, 2%, 3%, ok? E poi alla fine nel corpo si chiama di questa funzione, vedete che qua c'è la formula come si calcola l'IVA. Prezzo base per 1 più l'IVA diviso 100 perché in questo caso l'abbiamo espresso come numero intero, ok? Quindi una volta che abbiamo definito questa funzione, calcola prezzo finale, poi possiamo richiamarla quante volte vogliamo in qualsiasi punto nel nostro programma, qual è il vantaggio di questa cosa? Capite che se io ho sbagliato a calcolare la formula del prezzo IVA compresa, ok? Se la metto, se faccio un copia e incolla 100 volte, dovrò andarla a rifare 100 volte diverse, ok? In questo caso noi possiamo riutilizzare il codice e possiamo anche scomporre poi il nostro programma in tanti piccoli pezzettini, in tante piccole porzioni dove ognuna svolge il suo compito preciso. Ok? Questo è il concetto fondamentale, assolutamente fondamentale di funzione, ok? Vedete qua che poi per richiamarla basta semplicemente mettere il nome della funzione e poi passargli i parametri. Vedremo poi tra parentesi, ok? Non mi so soffermare troppo sulla sintassi, punti e virgola, parentesi graffe, perché queste sono cose molto semplici. Le vedremo dopo poi quando faremo gli esempi concreti, ok? Poi, per completezza, esistono anche poi alcune delle funzioni che, come in questo caso, a differenza di questo caso, di quella che vedete qui, non restituiscono un valore, ok? Ma devono magari fare solamente un compito specifico, svolgere una certa procedura, si chiama. In questo caso allora si parla di procedure o di funzioni void, ok? Void in inglese vuol dire vuote, che non fa nulla, che non restituisce nulla, ok? Un esempio di procedura potrebbe essere, ok, chiudimi, elimina tutti gli ordini pendenti e chiudimi tutti gli ordini con un profitto maggiore di 50, ok? In questo caso non c'è un valore che ci viene restituito, è un lavoro che deve svolgere, ok? Andiamo avanti ancora. Oltre poi, perché vi dicevo che era importante capire il concetto di funzione? Perché oltre alle funzioni che scriviamo noi e che scriveremo noi, tutti i vari tipi di linguaggio ci mettono a disposizione anche delle funzioni predefinite, ok? Ad esempio, tutti i linguaggi di programmazione hanno delle funzioni di natura matematica, ad esempio per calcolare magari delle funzioni trigonometrie, come seno, coseno, oppure per calcolare il logaritmo e la radice quadrata. Ok, queste funzioni non è che dobbiamo riscriverle noi, sono già dentro all'interno del linguaggio di programmazione, ok? Poi ci sono funzioni che servono per visualizzare dei valori a schermo, o ci sono delle funzioni per leggere e scrivere un file, che si chiamano funzioni I.O., di input out. Poi esistono tutta un'altra serie di funzioni che sono specifiche del linguaggio MQL, che rappresentano il punto d'ingresso di un programma, ok? Noi quando facciamo un programma, cosa succede? Il compilatore, il linguaggio, deve sapere, deve avere un punto in cui comincia a essere eseguito questo programma, ok? Questo programma viene, questa funzione speciale si chiama appunto di ingresso, ok? È la prima che viene eseguita all'avvio del programma stesso. Nei linguaggi C e derivati si chiama main, nel linguaggio MQL si chiama on start, ok? Quello che vedete qui a sinistra è il nostro primo trading system. Come vedete è composto semplicemente da tre righe, ok? Lasciate perdere la riga 4 dove c'è uno spazio, ok? Abbiamo una funzione predefinita che si chiama print, che mostra un messaggio, ciao a tutti, ok? Quindi noi, se dovessimo lanciare, creare questo programma che vedete qui, cosa succede? Vedete che poi una volta compilato ce lo ritroveremo poi nella nostra piattaforma. Quello che vedete a destra è l'ambiente di sviluppo e il linguaggio meta editor. Quello che vedete a sinistra è la piattaforma di trading, ok? Il nostro primo programma è composto semplicemente da queste quattro righe. Se noi lo eseguiamo, vedete che l'output che ci darebbe, il nostro primo programma MQL, sarebbe questo, ok? Abbiamo usato una funzione che si chiama print, che poi incontreremo ancora tante volte poi nei nostri incontri successivi, che mostra, diciamo, un nostro messaggio, un log si chiama, nella tabella consiglieri, ok? Quindi questo è il nostro primo semplice programma in MQL, che si chiama HelloMQL, perché come la tradizione vuole, quando si comincia a parlare di programmazione, la tradizione vuole che si crea il programma che si chiama HelloWorld, ok? Il cui scopo è appunto di mostrare a schermo, in questo caso nella piattaforma di trading non abbiamo un terminale, una finestra, ok? Abbiamo la nostra console all'interno della piattaforma di trading, questo programma CiaoMondo, che noi abbiamo chiamato CiaoATutti, è il nostro primo programma in MQL. Come vedete è semplicissimo, ok? È composto solamente da quattro righe. Abbiamo la funzione, ripeto, VoidOnStart, che è una funzione speciale predefinita del linguaggio MQL, che è la prima funzione che viene eseguita automaticamente quando noi andiamo a caricare il programma in piattaforma e lo eseguiamo. Poi abbiamo la funzione print, che semplicemente mostra nella console di trading il messaggio che gli diciamo noi, e poi abbiamo questo valore costante, che come dicevamo prima è un valore di tipo string, di tipo testuale, che contiene il valore CiaoATutti. Ok, direi che per adesso possiamo fermarci, Mirko. Aspetta, intanto hai creato 40 programmatori immediatamente, perché io gli farei fare una cosa, però, se ti va bene. Bene, diamogli, intanto se c'è qualche domanda, qualcuno ha qualche domanda, gli fai vedere dove tecnicamente si può scrivere questa riga di codice? Assolutamente, aspetta che apro la piattaforma. Ok, fai tutti i passaggini da quando è aperta, ovviamente, la piattaforma, in maniera tale che vorrei dare un piccolo compito, cioè fare questo programma, vedere se funziona, per la prossima volta. Assolutamente, guarda. La piattaforma è quella di MT4, Claudio. MT4, sì, adesso vi faccio vedere. Adesso vi mando tutto. Adesso vi mando tutto in chat, non preoccupatevi. Ok, abbiamo... Perché non si vede, eh? Sì, 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 no, adesso lo carico subito, eh. Come vedete, l'obiettivo di... abbiamo parlato con Daniele, è quello di fare delle cose molto semplici, passo passo, in maniera tale che anche i più negati della programmazione, come ad esempio Mirko, eh, non è vero che programmavo in M, io ho programmato in C++, tanti, 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 tanti anni fa, non vi ricordo più niente, però partiamo da zero togliendo tutto, così almeno facciamo proprio vedere. Ok, quello che vedete adesso è sullo schermo, è il metaeditore, il metaeditore cos'è? Semplicemente è l'ambiente di sviluppo. Aspetta, 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 Daniele, voglio rispondere alla domanda di Pietro che dice, ti do un messaggio, quando inventerete la possibilità di scrivere in italiano, saremo in molti a seguirti. E invece no, caro Pietro, è impossibile scrivere il codice di programmazione in italiano, perché è come dire, è come dire se devi dare un'istruzione, di dare una donna che ti dà un'istruzione, che a un certo punto ti dice, potresti fare in questa maniera, tu cosa fai, lo fai o non lo fai, tanto comunque sbagli. L'italiano non è adatto per i linguaggi di programmazione, vero Daniele? Sì, però Pietro ha detto anche una cosa, che è possibile, per esempio, non so se Pietro intende questo, potremmo scrivere, anziché magari la funzione print è un po' brutta, tra virgolette, facciamo stampa a schermo, stampa su schermo, tanto per fare un esempio, e poi avremo la nostra funzione string, messaggio, scusatemi, e potremo fare qualcosa del genere, ok? Print, messaggio, e a questo punto, anziché print, qua possiamo scrivere stampa su schermo. Quindi in parte, diciamo, la cosa che ha detto Pietro è vero, è possibile magari tradurre alcune cose e diciamo metterle, tra virgolette, in italiano, ok? Sì, vabbè, ma... Però, ovviamente, se eseguiamo questo programma, lo compiliamo, ok? Ovviamente è andato bene, funziona senza errori, però, diciamo, le parole chiave del linguaggio sono fisse, Pietro, sono in inglese, ok? Quindi diciamo, però sono poche, ok? Non sono così, come abbiamo visto in questa prima slide. Allora, anche perché scrivere un linguaggio di programmazione, più che scrivere una lettera, è proprio un, come possiamo dire, dare degli ordini alla fine, giusto? Esatto. E dare degli ordini, ti basta anche avere quelle 50 parole che usi sempre, usare solo quelle. Esatto. Invece ti fai una domanda, quello che ci spiegherai è solo MT4 o anche MT5? È MT4, è MT5, è Pinescript, per TradingView, è Python, è quello che è un po' tutto, ok? Diciamo, quello che a me interessa che voi capiate, che a parte piccole variazioni sintattiche, come vi dicevo prima, questi linguaggi di natura procedurale, una volta che avete capito come funzionano i concetti base, è semplicissimo passare da un linguaggio ad un altro, ok? Non sto dicendo che siano tutti completamente uguali, che in ogni caso potete magari copiare e incollare da MQL4 a MQL5, perché magari ci sono delle istruzioni diverse, perché la piattaforma è un po' diversa, però l'importante è che comprendiate i concetti, ok? Non fissatevi sull'idea del linguaggio, ok? Perché non è quello il discorso. Il discorso è comprendere il concetto, ok? Poi che in una parola chiave la sintassi sia leggermente diversa in MQL, che in C, che in Pinescript, o in Python, ok? Però i concetti sono sempre uguali, ok? Quindi è facile poi passare da una cosa all'altra. Infatti, nel nostro prossimo incontro, cosa faremo? Non è che partiremo subito a fare un trading system, ok? Ma vedremo come creare un programma che ci calcola la rata del mutuo, ok? Quindi, che dato il tasso e gli anni che vogliamo, che avremo di mutuo, lui ci dice qual è la nostra rata mensile, ok? E vedremo poi pian piano di migliorare questo programma e far vedere come potremmo darlo in forma di trading system, tra virgolette scherzando, come crearlo, come distribuirlo agli altri, vedremo che cosa sono le variabili di input e come influenzano il programma, ok? Una volta che vedremo, vedrete nella prossima lezione, che sarà interessante, dove applicheremo in pratica queste cose, e poi saremo pronti a partire piacevolmente per creare poi passo passo tutte le altre cose che ci interessano, insomma. Va bene, facci vedere dove troviamo questa, dove possiamo fare questa programmazione. Ok, perfetto, quindi chiudiamo questo e facciamolo nuovo, ok? Ok, quindi facciamo, siamo nel meta editor. Aspetta, fermo, ma per aprire il meta editor ci manca anche quello, eh? Sì, ok, per aprire il meta editor potete usare il pulsante F4 una volta che siete nella piattaforma, oppure semplicemente premere questo pulsante, ok? Ok, editor per il linguaggio meta, forse. E apre una roba grigia a blu. Ok, a questo punto diciamo che vogliamo fare il nostro nuovo programma, ok? Adesso lo sposto di qua. Vedete come avevo detto prima che ci sono magari diverse cose che potete fare, ok? Lo script di cui abbiamo parlato, che è il programma che viene eseguito una sola volta, un indicatore tecnico personalizzato, un expert advisor e via dicendo, ok? I linguaggi, cose di inclusione, quello che abbiamo parlato prima. Ok, diciamo che facciamo il nostro primo programma, ok? E lo chiamiamo, ciao mondo 2, ok? Togliamo tutti i riferimenti e facciamo fine. Ok, allora, vedete che ci ha creato una prima struttura di questo tipo qua. Quando vedete queste doppie varre, queste doppie slash, indica un commento. Cosa sono i commenti? Sono delle parti del programma che il compilatore semplicemente ignora, come se non esistesse, ok? Quindi, ad esempio, qua posso scrivere qualsiasi cosa. Ok, questo è il programma. Ciao mondo, versione 2, ok? Gli altri commenti eliminiamoli. Ok, eliminiamo anche questi. E eliminiamoci anche queste che non ci interessano. Ok. Quelle che vedete qua sopra, dalla riga 3 alla riga 6, si chiamano direttive del compilatore. Una cosa che vedremo dopo. Non è niente di complicato. Semplicemente cosa sono? Sono dei metadati, chiamiamolo così, che vengono utilizzati per descrivere il programma, ok? Quindi che non influiscono direttamente sul funzionamento del programma, oppure che danno indicazioni al compilatore su come interpretare il codice che scriviamo, ok? E nel nostro caso non ci interessano, ok? Quindi diciamo, proprio il copyright, semplicemente se avessimo dovuto scrivere qualcosa, è l'autore del coso, tipo, non so, Daniele Lindy, ok? Link www.avatrade.it.it. Ok, versione del programma, qua posso scrivere quello che vogliamo. Due, ok. Property Script, una cosa un po' particolare, che dice al compilatore, ok, guarda che questo programma usa la versione più aggiornata dell'MQL4, ok, quella simile all'MQL5, quindi è una parola chiave di questo tipo qua. Io posso togliere completamente tutte queste, tutte queste parti qua, il programma viene eseguito lo stesso, ok? Poi cosa succede? Andiamo, questa è la funzione on start, che vi dicevo, che viene eseguita automaticamente quando viene caricato il programma, ok? Quindi, rifacciamoci il nostro programma e diciamo, ok, usiamo la funzione print, che significa stampa sullo schermo dei consiglieri questo messaggio e ciao mondo, questa è la versione aggiornata. Ok, poi compiliamo il programma, compilare cosa vuol dire? Vuol dire prendi questo codice sorgente che abbiamo scritto e fammelo diventare un programma per MQL, quindi premiamo questo pulsante, ok, in basso ci viene fuori un messaggio, tutto bene, zero errori, zero avvertimenti, ok? Poi cosa succede? Ci spostiamo nella piattaforma, ok? Andiamo nella sezione programmi, ok, calcolo la data mutua, no? E vedete che abbiamo il programma ciao mondo 2, ok? Cosa succede se io dovessi trascinarlo sul grafico, ok? Fare doppio clic, lo trascino, il programma viene eseguito, tu dici ok, ma dov'è che, dov'è che viene fuori che viene eseguito? Qua, vedete in consiglieri, ok? Vedete in questa riga, ciao mondo, questa è la versione aggiornata, quindi questo è il nostro primo programma in MQL, come vedete è molto semplice, sono bastate poche righe di codice, ok? Fantastico, allora, qui adesso a questo punto, caro Daniele, ci saranno due tipi di persone che ci seguono, quelli, gli ascoltatori passivi inutili o gli ascoltatori attivi e proattivi, che dovranno semplicemente, prima della prossima lezione, fare esattamente quello che hai fatto tu adesso, andare a creare questo semplicissimo a riga di codice, in maniera tale che, la prossima volta, non sta, ehm, avranno quella piccola base che servirà per fare lo step successivo, giusto? Esattamente Mirko, esattamente. Fantastico, quindi cari ragazzi, eh, vi consiglio di cominciare a fare qualcosa di questo tipo. Allora, creeremo sul nostro sito di vantaggio sliare una sezione, un'area riservata, dove caricheremo tutto quello che serve, ok? Le caricheremo sia le slide che caricheremo anche il video. Allora, il video lo metteremo su YouTube, lo caricheremo anche l'area riservata, così sarà tutto bello organizzato. E poi, adesso no perché è ridicolo, ma quando ci sarà qualche riga in più di codice, lì metteremo anche il copia e incolla delle righe di codice, in maniera tale che uno può cominciare a capire, copiare, incollare e fare, ok? Facciamo una cosa di questo tipo. Vi chiedo solo una gentilezza, se non avete ancora il conto Avatrade reale o demo, eh, usate questo link e create, per favore, il vostro conto Avatrade, almeno demo, in maniera tale che anche dall'altra parte vedranno che questi webinar funzionano e riusciremo a, come si può dire, aprire più conti e quindi Ava è più contenta a sponsorizzare i nostri eventi. Cioè, funziona tutto in questa maniera, eh, ovviamente. Quindi, se non avete ancora il conto, se ce l'avete già nulla, ma se ce l'avete già conto reale o demo, niente, se non ce l'avete, cliccate su questo link e andate ad aprirlo, ok? Va bene, ragazzi, molto facile, molto semplice, grazie Daniele, direi che ci aggiorniamo al prossimo appuntamento, arrivate minimamente preparati, per favore. Hai qualcos'altro da dire? No, Amirco, se ci sono, diciamo, delle domande. Ma guarda, le domande le abbiamo, chiedevano se c'è una lista dei comandi che si capisce cosa fanno, se ci sono già su MT4, se ci sono da qualche parte. Assolutamente, sono integrati dentro nella piattaforma, nel meta editor. Andiamo a vedere? Quindi fai sì. Sono qui scrivendo, andando su aiuto MQL4, qua abbiamo tutto, scusate, qua c'è tutto, diciamo, il riferimento di tutto il linguaggio, ok? Quello che avevo detto prima, tipi di dati, ok? Sintassi, ovviamente divisi per categoria. Per esempio, Real, Real, clicca su Real, ok? Vedete che spiega tutto come funziona e se non sapete queste quattro robe in inglese, usate Google traduttore che sarà la stessa cosa. Ok, quindi c'è questa cosa qua, poi ci sono, qua trovate tutto perché sono divisi anche, a parte queste cose qua, ve le spiego io, è inutile che andate a vedere, quindi gli operatori, le funzioni, le abbiamo viste, oggi, le variabili, i pre-processori, l'abbiamo visto una piccola cosa a una parte oggi, ok? Quindi poi qua ci sono, la guida è fatta abbastanza bene perché è divisa, diciamo, per macro aree, per concetti, qua abbiamo, ok, le funzioni comuni, ok? Qua ad esempio print, ok? Mostra un messaggio nella finestra di log, ok? E le varie funzioni speciali, le funzioni matematiche, che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato brevemente, che ogni linguaggio mette a disposizione, qua vedete, valore assoluto, logaritmo, logaritmo in base 10, e via dicendo, funzioni, diciamo, sul, sui tipi di dati testuali, sui tipi di dati stringa, ok? funzioni per l'accesso ai file, per aprirli e chiuderli, vedete che sono divise già, comunque, in macro aree, ok? Però queste qua poi le spiegheremo, quali sono le più importanti, non abbiate fretta, che le vedremo tutte, volta per volta, ogni volta che se ne, se ne presenterà la necessità, ok? Ok, Mirko. Va bene, ragazzi, buona giornata a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento, sapete quando è? Sapete quando è? Se no, cercatevelo. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao, grazie a tutti, eh, per l'attenzione. Ciao,